Eterno Padre, nello Spirito Santo voglio consacrarmi ed affidarmi ai cuori di Gesù e Maria per essere sempre più devoto e fedele figlio tuo. Madre Maria, io mi affido oggi al tuo cuore immacolato. Accoglimi sotto la tua materna protezione e conducimi al tuo figlio Gesù. Signore Gesù, per mezzo del cuore immacolato di Maria mi consacro e affido al tuo sacratissimo cuore. Fai il mio cuore simile al tuo perché tu possa vivere sempre più pienamente in me. Sacratissimo cuore di Gesù, cuore immacolato di Maria, con questa consacrazione e affidamento vi ritorno il vostro amore che mi avete dimostrato durante tutta la vostra vita terrena, soprattutto sul Calvario. E me lo state dimostrando ancora oggi. Nello stesso tempo rinnovo la mia consacrazione battesimale al Dio Trino. Rinuncio al peccato, alla seduzione del male e al demonio. Credo in tutto ciò che Dio ha rivelato e come ci insegna la Chiesa Cattolica. Prometto che osserverò il comandamento di Gesù, che comanda di amare Dio e il prossimo, tutti i comandamenti di Dio e della Chiesa, e che mi regolerò secondo la dottrina del Magistero della Chiesa sotto la guida del successore di Pietro. Con questo voglio contribuire all'unità e alla crescita della Chiesa. Volentieri reciterò il Rosario personalmente, in famiglia e nelle altre comunità, e praticherò la devozione dei primi venerdì e dei primi sabati del mese in riparazione ai miei peccati e a quelli di tutta l'umanità. Grazie.